Anche i cittadini indiani residenti in Italia cominciano a pensare che la questione riguardante i due marò pugliesi detenuti in India con l'accusa di omicidio non farà bene ai rapporti Italia-India e ai tanti indiani che lavorano nel bel paese. Questa mattina su The Time of India, un indiano residente in Italia da 25 anni e proprietario di una società di servizi a Genova offre all'Alta Corte di Coci un terreno del valore di 20 milioni di rupie a garanzia della concessione della libertà dietro cauzione a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I due marò da venerdì scorso sono stati trasferiti in un ex riformatorio ristrutturato nella città portuale di Coci. Intanto il fronte giudiziario si fa sempre più ingarbugliato. Questa mattina l'Alta Corte di Coci ha respinto il ricorso del governo italiano sulla giurisdizione da applicare alla Torre Girone. Una decisione sulla quale l'Italia contava molto ma evidentemente la fiducia italiana è stata disattesa. Il ricorso era stato presentato settimane fa. Nel frattempo l'Alta Corte di Coci è entrata in un periodo di vacanza. I capi d'accusa contro i due fucilieri pugliesi sono stati acquisiti dal giudice istruttore che li ha trasmessi ad un tribunale di primo grado per l'inizio del processo. Con uno scenario di questo tipo pare, secondo fontianza, che la decisione di oggi fosse quasi scontata.